celebriamo la nascita di mia marchigiani in america associazione no profit e come da tradizione l'evento si svolge qui da scavolini mia marchigiani in america è un'associazione nata nel 2017 in realtà agli eventi partecipano anche marchigiani e non che vengono dal connecticut da filadelfia da washington e anche da new jersey è un'associazione che ha come scopo quello di trasmettere la cultura le tradizioni marchigiane negli stati uniti e alla fine tutto si riduce la semplicità di colline montagne mare l'aspetto geografico abbiamo appena avuto un evento su rossini con gli amici del rossini abbiamo come obiettivo quello di avere un altro evento a più breve a breve su leopardi voglio congratularvi ringraziarvi con voi che avete costituito con grande cuore e grande impegno marchigiani in america vorremmo poi nel corso del tempo riuscire a sviluppare anche dei programmi più istituzionali in particolare borse di studio per studenti meritevoli potenzialmente già negli stati uniti o in italia che siano disponibili a venire negli stati uniti e creare anche dei legami molto più forti a livello istituzionale e aziendale thank you Grazie a tutti